Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta da tutte le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora nella nostra morte adesso e nell'ora nella nostra morte Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta tra tutte le donne e benedetto è il frutto nel seno tuo Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi prega per noi adesso e nell'ora nella nostra morte adesso e nell'ora nella nostra morte amm 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti